Destinataria di recente di un importante finanziamento regionale, grazie al quale si potrà procedere al monitoraggio delle specie animali e vegetali presenti nelle zone speciali di conservazione, la riserva naturale di Torre Guaceto è in attesa che il Ministero dell'Ambiente completi l'iter amministrativo che porterà all'ampliamento dell'area protetta lungo la costa sud-est e a sud-ovest. Il Consorzio ha già fatto la sua parte, trasmettendo la proposta di modifica del perimetro dell'intera area, mentre dopo un lungo iter, nell'ambito del quale ha chiesto e ottenuto numerose integrazioni, il Ministero ha elaborato la bozza del decreto, chiedendo al Consorzio di farsi da tramite presso i due comuni competenti, quelli di Brindisi e di Carovigno, ai fini dell'ottenimento di un ulteriore parere. Richiesta che a dirla tutta è stata già trasmessa alla fine del 2020, ma che ancora non ha avuto risposta alcuna. Per questo le associazioni ambientaliste hanno scritto al sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, al commissario prefettizio di Carovigno, Maria Antonietta Olivieri, sollecitandogli a dare impulso all'iter amministrativo necessario all'approvazione dell'ampliamento della riserva di Torre Guaceto, passaggio propedeutico all'emanazione dell'apposito decreto da parte del Ministero della Transizione Ecologica. Bisogna far presto, sottolineano le associazioni. L'avvicinarsi della stagione estiva rende ancora più urgente l'ampliamento, atteso che l'inserimento di queste aree nel perimetro della riserva e la conseguente destinazione d'uso agricola impedirà nel futuro speculazioni su queste aree costiere, che verranno protette attraverso lo strumento del regolamento della riserva.